Siamo felici e contenti perché come ogni anno questa edizione della Saga della Melanzana dà sempre degli grandi risultati. Tanta gente, un menù veramente di qualità e devono ringraziare le nostre cuoche Rosa Clara, Melina e Maria che ogni anno in modo gratuito riescono a regalare questa serata particolare. Ormai è una data storicizzata come ho già detto diverse volte e noi cercheremo sempre di migliorare ulteriormente e quando c'è la presenza di tutta questa gente naturalmente a noi la cosa non fa che darci quella soddisfazione che meritiamo tutti quanti il gruppo perché è sacrificato, è un lavoro sacrificato, tre giorni di impegno e sacrifici e che però ne vale la pena perché insomma il 18 di agosto per Guardavalle ormai è diventato veramente un evento importante e noi continueremo a rispettarlo. luna che guardilo, trono che romba, trono che cresce e chi poi germoglia, che è bella la natura la sagra sempre molto buona, la pasta al dente, cosa molto importante, tutto il resto molto buono, organizzata bene e anche economica quindi diciamo da questo punto di vista è consigliabile a tutti e speriamo che continuerà sempre così anche per le prossime estate il quinto anno che ci troviamo a Guardavalle per l'ennesima volta ci troviamo in questa sagra è un posto fantastico ed è sempre un piacere tornare e gustare queste cose sono venuta per la sagra della melanzana, mi è piaciuta molto, sono in compagnia, aspettiamo l'alba forte gira lo mondo, gira e non si ferma balla, monta, canzona, facciamo ruota l'umari sta comendo all'ultramonto la luna sta nascendo, saluta al mondo l'umari sta con l'umari